Benvenuti ragazzi per questo nuovo video, oggi siamo qui tornati su Fortnite, siamo qui perché come avete detto dal titolo è arrivato il pacchetto da 5 euro che in realtà è 4 euro adesso Comunque il bundle, quello di inizio stagione che esce appunto ogni inizio stagione Adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare il like, di commentare, di condividere Non so più parlare, e di condividere il video con tutti i vostri amici Tra l'altro è tornato il fucile pesante, oh mio dio, oh bello mi piace Comunque andiamo nello shop, adesso supporto in creatore ragazzi, codice creatore alle 1088 E ragazzi devo fare per forza, cioè cosa devo fare? Allora ve lo chiedo in ginocchio, ve lo richiedo eh In ginocchio, iscrivetevi, dobbiamo arrivare a 2000 iscritti prima della fine dell'anno Per favore iscrivetevi, il 7 ottobre è il mio compleanno, ovviamente a 2000 non ci arriveremo mai nella vita Però, ma quanto siamo adesso? Abbiamo superato i 1200, vi ringrazio Continuate, fatemi un bel regalo per il compleanno Iscrivetevi al canale tutti per favore Comunque, eccolo qui Pacchetto scacchi old school 4 euro, 3 euro e 99 Esamina, io lo comprerò, credo che lo comprerò Non perché mi piaccia la skin in realtà, ma perché ci sono i v-back, quindi credo che lo prenderò Ecco qui la skin, che tra l'altro guardate Allora, la prenderei solo per questo eh Guardate cosa c'è scritto sulla maglietta Dead game Vuol dire gioco morto Questa roba qui l'ha fatta Fortnite per Per tutti quelli che dicono che Fortnite è un gioco morto Quando non è mai vero Ma vabbè Chi lo dice è solamente un pagliaccio Comunque Quindi non ditelo Pagliacci E iscrivetevi Comunque La skin è carina dai Niente di troppo Non è il bundle Di inizio stagione più bello che abbia mai visto Ce ne sono stati molti più belli Backpack Carino ma niente di che Piccone questo è già più bello Contra Com'è che si chiama? Contro gambetto Ma questo è già bello Dai ci sta Bello È tipo quel piccone lì Io ce l'ho un piccone che è simile a questo Mimedica Scacchie graffi Boh carino ma niente di che Vabbè ragazzi sono i soliti bundle che Sono belli per ovviamente I V-Buck Io credo che lo prenderò appunto solo per i V-Buck Perché mi servono 600 V-Buck In realtà non so per cosa Però li voglio Non userò credo mai la skin Neanche il backpack Forse il piccone Ma nemmeno Non userò mai nulla di tutto ciò Ci sono bundle molto molto più belli Se vi devo dire la verità Ma fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti Avete shoppato questo bundle Lo shopperete E se si Voglio sapere anche il perché Perché Voglio vedere se lo shoppate solo per i V-Buck O anche perché Vi piace il bundle Io dico che comunque È una skin carina Ci può stare Un set abbastanza carino Ma non lo userò mai Lo so Non voglio fare Perché Quando faccio tipo queste recensioni dei bundle Faccio sempre le cacolo Diciamo Dico si è bello Si è bello Poi non lo uso mai Quindi voglio essere Sincero È bello Ma non lo userò mai Ok Però mi piace che ha scritto sulla meta Gioco morto Per pigliare per il culo Tutti quelli che lo dicono Comunque Mando al carino Ovviamente i V-Buck Sono la cosa più bella Iscrivetevi al canale Per favore Per favore Dobbiamo arrivare a 2000 iscritti Vi prego Vi prego Vi prego Lasciate like Attivate la campanella Fatemi sapere cosa ne pensate Qui sotto nei commenti E condividete il video Con tutti i vostri amici Non si può più parlare E ci picchiamo Nel prossimo video Bella Ciao 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 Ciao